segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora professore domanda proprio secca la nostra costituzione è antifascista senta secondo lei per sapere se un uomo è un bipede o un quadrupede deve avere scritto in fronte che un bipede voglio dire che per sapere se fascista o antifascista basterebbe forse vedere che cosa dice la costituzione allora nella nostra costituzione c'è scritto che gli italiani periodicamente vanno a votare ora se noi compariamo con il periodo fascista vediamo che durante il fascismo non ci furono votazioni libere ma ci furono plebisciti che nel 1939 la camera dei fasci delle corporazioni venne istituita che non veniva che dove non c'era nessuna elezione popolare quindi c'è una differenza seconda differenza noi oggi abbiamo un regime pluralistico abbiamo comuni e regioni che di cui votiamo gli amministratori durante il periodo fascista le regioni non c'erano e i comuni avevano non un sindaco ma un po d'està nominato dall'alto e infine noi oggi godiamo della possibilità di istituire partiti politici di esprimere la nostra opinione di libertà di stampa durante il fascismo c'era un solo partito il partito nazionale fascista non c'era libertà di stampa perché c'erano dei limiti quindi a ragione ellish line quando dice l'antifascismo è la nostra costituzione c'è poco da girarci attorno appunto è lo stesso motivo per il quale non c'ho bisogno di girare con sopra scritto bipede perché basta vedere che questo paragone meraviglioso col bipede mi sembra una velata critica al presidente la russa che ha detto che non c'è la parola antifascista scritta sopra questo è il tema non serve quella parola scritta dentro il presidente del senato viene da una scuola di teologia medievale e io non riesco a seguirlo va bene si perde un po' il professor cassese va bene senta mi dica una cosa allora dato che lei ci ha spiegato in maniera devo dire inequivocabile cos'è la nostra costituzione perché c'è una parte del paese di italiani come me come l'ego il professor e il professor de masi che fanno fatica a festeggiare il 25 aprile no perché non è non è una festa di sinistra il 25 aprile una festa di tutti noi che viviamo in questo paese con queste regole capisco bene guardi secondo me c'è una duplice componente però mi farebbe piacere sentire anche cosa ne pensa il professor de masi la prima componente è una componente identitaria cioè differenziarsi la seconda è un fatto di ignoranza di quello che è accaduto in quel coinquegno tra il 43 e il 48 quando entrato in vigore la nostra costituzione perché in realtà in mezzo c'è il 45 e quello costituisce una cesura e non si può sottovalutare una cosa fondamentale e cioè che i 100 mila partigiani che combattettero i 35 mila che morirono i 19 mila che i 21 mila scusi che rimasero mutilati e i 9 mila che furono deportati dai nazisti in germania lottarono fondamentalmente per restituire sovranità agli italiani quindi una cultura che si ispira concetti nazionalisti e sovranisti dovrebbe riconsiderare questo aspetto perché non ci dimentichiamo che in quel momento si combatteva contro una forza nazionale quella tedesca che aveva occupato una parte dell'italia certo mi rendo conto che come dire c'erano anche c'era stata le forze alleate che erano sbarcate in sicilia che poi erano sbarcate a salerno a una commissione inglese presieduta da hewitt riconobbe storicamente dopo gli eventi che l'occupazione da parte degli alleati non sarebbe avvenuta certo così rapidamente con tanta efficacia ecco così poco senza se non ci fossero stati quelle persone che io prima menzionato scusi un'ultima cosa che devo chiedere poi passo anche al professor de masi mi incuriosisce molto perché una delle cose che mi viene detta quando io faccio questa domanda ma perché non è gioire del fatto che in questa giornata cioè la giornata di domani siamo diventati il paese che siamo abbiamo la costituzione di cui andiamo fieri mi viene detto perché la sinistra se ne è appropriata di questa di questa ricorrenza e nei cortei viene fischiato il padre della moratti quando la moratti c'è la porta del sindaco di milano col centrodestra e la brigata ebraica viene fischiata quindi è diventata una festa di parte è questo uno dei problemi se fosse uno dei problemi e forse bisognerebbe dire a quelli che criticano questa appropriazione perché loro stessi non si identificano con la costituzione con quello che è stato fatto il 25 aprile perché l'appropriazione è un fatto ex post e poi anche voi sta dicendo cassese forza su prendetevi il 25 aprile certo e poi che leggano i libri di storia io leggevo stamattina un una bella biografia scritta qualche anno fa di di mattei da parte di un giovane storico il quale riferiva il fatto pare storicamente accertato che enrico mattei il presidente dell'eni se il cui nome viene utilizzato dal presidente del consiglio dei ministri per il piano mattei annunciato nel discorso programmatico enrico mattei è stato non solo un capo partigiano come tutti come tutti sanno ma che è stato uno dei forti sostenitori della necessità e che appena catturato mussolini venisse passato perché ascolto sempre così con attenzione professor cassetti perché la mattina mentre leggo giornali li legge le biografie di mattei ed è tutta qui la differenza che la professore demasi